E che non ti avrò sconfitto? Luci, non cantare vittoria! È una promessa! Un giorno non lontano vi pentirete di aver fatto entrare quella ragazza nella ciurma. GAM GAM! Addio, perché noi non ci rivedremo mai più. Vi consiglio di stare alla larga. È meglio per voi se non vi immischiate. Nico Robin ha deciso di sacrificarsi per salvare tutti quanti noi! Ehi, siete impazziti! Pensate forse di poter combattere contro gli eserciti di tutto il mondo? Troverò quella criminale che ha usato opporsi al governo e la toglierò di mezzo. Io voglio vivere! Ehi, siete impazziti! Ehi, siete impazziti! Non credo ai miei occhi. Ma che cosa stanno facendo? Rubber! Rubber! Il primo pilone! Ehi, gente! Che diavolo è successo? Non ne ho idea! A tutti gli uomini impegnati nell'operazione questo è un avviso ufficiale! Vi informo che il signor Luci cioè l'unico agente rimasto della CP9 durante il combattimento con Rubber Cappello di Paglia è stato sconfitto! Lo sapevo. Bravo! Rubber! È finita! Questa volta è finita davvero!